Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questo è lo speciale halloween, lo speciale halloween 2020, si è caricato il 31 per ora, venerdì 30 ottobre, sono le 11 e 44, il mio obiettivo oggi è di superare i 30 chilometri in un giorno, quindi voglio fare più di 30 chilometri andando in bici, in un solo giorno, beh quindi partiamo un giorno in bici, avevo finito le video lezioni prima, avevo finito prima le video lezioni, quindi avevo fatto solo 3 ore di video lezioni invece di 5, ma io che direi usciamo e andiamo, voglio far vedere che è originale i chilometri che non sono, prima partiamo da 0 arriviamo a oltre i 30, eccolo qua, questo è, 0 chilometri vedete, vado a mettere ancora un po' di bici, vado a mettere ancora un po' di bici, vado che mai fermo un bici? la prima tappa sta andando a pessimo, ok? Quanti chilometri ho già fatto? Vediamo un attimo Questa posta qua, guardate Ah, c'è un mano Infatti, eh, devo fermare, aspetta un attimo 1,84 chilometri, eh, continuiamo Sono appeso Vedete, sono appeso, ma è, sa facendo, sa facendo, sa facendo, sa facendo, sa facendo, sa facendo Speciale Halloween Che paura, come quella paura Che paura Speciale allo con la miseria L'anima della miseria Oh, guardate qua Continuiamo Questa strada Ma no, ma l'ho già portata l'Action Gum Perché ma non mi serve Ma l'Action Gum non mi serve Ma ritorno di nuovo a casa Che si sa che devo ritorno a casa Ci andiamo a dopo A casa Come si è riuscita, vediamo 8,27 chilometri, eh Buono per la prima tappa Ma se questo è andato nuovo a casa Dovranno andare noi in bici dopo Se andiamo poco fino a questo Non mi giri là Infatti Ho fatto 8,27 chilometri Quindi dovrò fare ancora oltre 30 Almeno 31, non so Ok 13,54 Dove sono? Qua, sempre questi posti Special Halloween Ah, dopo andremo pure nella pineta Come la Ma che ne dite Se prima andiamo nella pineta Ci andiamo qua con l'Action Gum Va bene Ci andiamo qua con l'Action Gum Però dopo Poi andremo pure nella pineta Nel buio Nel buio della pineta Un po' di fango Trattori lontani Là il trattore Con le gambe Andiamo là Questa è in detta plano No, con l'aereo là Inizia a n'altro Ma l'aereo là anche a Gamba Ma l'aereo là l'Action Gum E' subito l'Action Gum Inizia a l'Action Gum Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. siamo a tutti. a tutti. a tutti. niente panorama. a tutti. 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 ok. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.